Hamilton si è rilanciato adesso, eccolo qua on board, helmet camera per lui, il suo punto di vista sul volume, andiamo! Qui fece una magia bassa col sorpasso spettacolare di traverso, al fondo. Macchina molto bassa, la Mercedes sul dritto, un po' più nervosa nella chicane, va a sferare il muro in uscita della penultima curva, va sul traguardo, Lewis Hamilton per la battere, quello di Lando Norris, Hamilton chiude il suo giro in terza posizione con un distacco minimo di poco più di due decimi da Lando Norris.